Voci che potrebbero non avere alcun fondamento, soprattutto se il presidente rieletto della provincia Bonopane confermerà blindandolo alla vicepresidenza Costantino Giordano, sindaco di Monteforte, suo fido scudiero e alleato, l'unico a conoscere della sua nomina a dispetto dell'intero partito, colui che ha dato seguito alla sentenza del Tar, dando immediata esecutività al verdetto e ordinando votazioni bis prima che le comunali rovesciassero la platea. Eppure nelle dichiarazioni a caldo è sembrato mancare il passaggio del sì, definitivo e convinto di Bonopane con Giordano resta al suo posto, ma perché mai non dovrebbe? Si dice che tra i debiti di riconoscenza dopo l'elezione vi sia la necessità di dare a Montoro il giusto risalto. Dopo aver definito il confine politico, Bonopane potrebbe riconoscere una delega pesante al sindaco Giacquinto, con trascorsi in Forza Italia, ma dato sempre più in avvicinamento verso il governatore. Oppure Bonopane potrebbe utilizzare la casella per risolvere la mediazione dopo il botta e risposta a distanza e ridarla all'ala Petitto, dopo aver dichiarato in maniera postuma che la nomina per Mazzarello era già pronta, ma che sarebbe stato lo stesso Petitto a dire di aspettare. Ha rivendicato un ruolo politico, Bonopane lo ha fatto subito dopo il voto chiedendo espulsioni dal partito. Farnetica è stata la replica di Petitto, la resa dei conti ci sarà lunedì pomeriggio in via Tagliamento con la direzione provinciale convocata per l'analisi del voto. La scelta del vicepresidente a Palazzo Caracciolo è prerogativa di Bonopane o va condivisa con il partito nell'uno e nell'altro caso, con Giacquinto pronto a bussare alle porte di via Tagliamento dopo aver dato fiducia ad essere sacrificato potrebbe essere proprio il sindaco di Monteforte, per il quale ovviamente non mancherebbe comunque una delega pesante. È il solo fatto di metterlo in discussione, non confermandolo e blindandolo dal primo minuto a creare equivoci e mugugni probabilmente ingiusti nei confronti di chi si è speso in maniera determinante insieme alla sua amministrazione per il risultato finale. Patti e sacrifici nel segno di ideali o di riconoscenza, pochi giorni per sciogliere il nodo. Le poltrone ovviamente sono il tema meno importante all'ordine del giorno, ma non si riesce a farne a meno. Sull'ospedale di Ariano Smantellato, sull'acqua scippata all'Irpinia, i costi e le rotture delle condotte, l'isolamento ferroviario, l'emergenza sociale dilagante, quali impegni della direzione provinciale DEM. Il discorso è affidato alle varie ed eventuali, dopo l'analisi del voto e le comunicazioni del segretario. Giordano, la vicepresidenza intanto, sembra averla guadagnata sul campo, ma non sempre la riconoscenza è sinonimo di buona politica.